I residenti di via Fornari non ne possono più. La strada che collega la statale 45 con la provinciale Valnure all'altezza di San Bonico è diventata ormai una pista automobilistica. A denunciare la pericolosa situazione è un gruppo di abitanti che vive in un complesso residenziale formato da una trentina di villette a ridosso della via. È una strada da Formula 1 questa, non una strada normale per anche chi volesse fare due passi a piedi. Mancano anche i marciapiedi? Manca tutto, anche l'illuminazione, ma anche soprattutto. Ma visto e considerato che i nostri soldi ci tirano fuori dalle tasche e non si sa dovevano finire, questi sono i risultati. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Eh, si può allargare un pochettino, perché ho visto un po' di spazio c'è, allargare un limite un po' in modo che due macchine ci passano, che poi non sono le macchine, passano dei camion, che non dovrebbero, però passano ugualmente, perché per evitare di fare tutti i giro, tagliano questa strada, ma anche qui a piedi non si può camminare, è molto rischioso. La strada è strettissima, mancano i marciapiedi, è pericolosissimo, tra l'altro c'è molto traffico, perché la gente invece di andare alla Galeana tagliano qua, insomma è pericolosissimo. Mi è capitato a me due anni fa, mi ha portato via lo specchietto, una macchina, perché non si passa. All'amministrazione chiediamo che venga qui un giorno a dare un'occhiata a come passano le macchine, passano i 150 all'ora qua su questo rettilineo, cioè che venga a vedere, noi sono dieci anni che siamo qui, non si è mai visto nessuno, mai una pattuglia, mai nessuno, cioè che facciano qualcosa.